Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di violenze, mentre Putin annuncia che la Russia unita sul campo di battaglia si contano pesanti bombardamenti su Kharkiv e un attacco di droni alle porte della capitale russa. Sala a 10 vittime, il bilancio dell'attacco israeliano a Genin non si fa attendere la rappresaglia. L'attentato a Tel Aviv, auto falcia alla folla, otto feriti tra cui una donna incinta in gravi condizioni, ucciso l'attentatore. Il garante sollecita spiegazioni a compagnie sul carovoli, sono aumenti anomali, dice si vuole far luce sulle dinamiche dei prezzi, in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione ingiustificata. Giovedì arriva al cinema Raffa, il docufilm che Daniele Lucchetti dedica a Raffaella Carrà, aspetti inediti, successi e fragilità dell'amatissima artista di cui domani ricorre il secondo anniversario della scomparsa. 20-31 minuti, una marciata ai secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Attacco di droni alle porte di Mosca, il Cremlino dichiara di averli neutralizzati tutti, accusa Kiev e la Nato. Putin intanto torna a parlare, la Russia è unita, dice il servizio di Massimiliano Cocchi. Prima tocca a Putin, che in collegamento con i paesi del cosiddetto gruppo di Shanghai, dice che l'Occidente sta combattendo una guerra ibrida contro la Russia. Poi è il Ministero degli Esteri a dichiarare che gli attacchi come quello avvenuto questa mattina, con cinque droni abbattuti sui celli di Mosca, per gli ucraini non sarebbero possibili senza l'aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati della Nato. Dopo che il tentato golpe dei mercenari della Wagner ha mostrato la debolezza del suo regime, Vladimir Putin cerca di compattare l'opinione pubblica russa ai paesi alleati, puntando il dito contro l'Occidente che sostiene di fatto partecipa alla guerra. E lo fa nel giorno in cui alcuni siti di analisi militare pubblicano una notizia che, se confermata, qualche imbarazzo nella Nato lo provocherebbe. Il 13 maggio due aerei e due elicotteri di Mosca sono stati abbattuti sui cieli di Briansk in territorio russo e per abbatterli gli ucraini avrebbero usato una batteria del sistema missilistico Patriot, quello che la Nato ha fornito per proteggere i cieli di Kiev. Se così fosse dunque, armi che dovevano essere usate solo a scopo difensivo sarebbero state usate per colpire i russi in casa loro. La notizia non ha avuto per ora nessuna conferma e nessuna smentita. Da parte sua il governo ucraino ha negato una sua responsabilità per l'attacco coi droni su Mosca di questa mattina. E mentre sul campo di battaglia i combattimenti proseguono, sia sul fronte est che su quello sud, resta preoccupante la situazione attorno alla centrale nucleare di Saporizia, che ha perso le quattro linee di alimentazione esterna e dipende ormai solo da quella di riserva. Gli ucraini accusano i russi di aver minato l'impianto e di aver cominciato nei giorni scorsi ad evacuare il proprio personale. I russi ribattono, accusando gli ucraini di aver colpito più volte zone a ridosso della stessa centrale. Il timore è che qualcuno possa cercare l'incidente da addossare al nemico. Medioriente nel caos, agli attacchi israeliani a Jenin fa seguito la rappresaglia di un attentatore che semina il panico a Tel Aviv. Ce ne parla Beatrice Bossi. L'esercito israeliano diffonde il video del secondo giorno di operazioni ancora in corso nella città di Jenin. I militari setacciano strade e case senza sosta da domenica notte alla ricerca di armi e miliziani palestinesi. Hanno usato droni, carri armati e missili. Si tratta di un'aggressione con pochi precedenti, la più grande sicuramente degli ultimi vent'anni. Sono 11 le vittime, almeno 100 invece i feriti e 3.000 gli sfollati fuggiti dal campo profughi. Secondo Israele, è tra i vicoli di questa cittadina della Cisgiordania che si sta formando la nuova generazione di estremisti. Da qui sarebbero partiti gli attacchi degli ultimi mesi e forse da qui è partito anche l'ordine alla rappresaglia. L'auto ha falciato passanti a tutta velocità, dice questo poliziotto di Tel Aviv. Poi il conducente è sceso e ha cominciato ad accoltellare chi trovava sulla sua strada. Fortunatamente un civile armato è riuscito a neutralizzarlo. L'aggressore era un ragazzo palestinese poco più che ventenne. Il portavoce di Hamas ha definito il suo gesto eroico. Il bilancio dell'attentato è di otto feriti. La scia di sangue non si fermerà. La pagina politica prove di unità da parte delle opposizioni che presentano insieme la proposta sul salario minimo. Nella maggioranza si aprono crepe sulla questione delle alleanze europee. Augusto Cantelli. Prove di campo largo depositata alla Camera la proposta di legge sul salario minimo a firma di tutte le opposizioni. Italia viva a parte. Per Conte Meloni non può dire di no. Io voglio sperare che la Meloni, che ha già smantellato il reddito di cittadinanza, che ha precarizzato ancora di più rapporti lavoro, si renda conto che qui sta creando un disagio sociale. Anche dalla segretaria del PD l'invito ad andare avanti parole che giungono da Ventotene, dove Elie Schlein visita la tomba di Altiero Spinelli, padre dell'Europa Unita, e attacca il centro-destra. Perché l'Europa che è in testa a Giorgia Meloni non è l'Europa dei popoli, è l'Europa dei vetti nazionali, come quelli dei suoi amici alleati, ungheresi e polacchi. Maggioranza che prova una mediazione sulle alleanze e sul coinvolgimento dell'estrema destra e il veto di Forza Italia su un accordo con l'Alipen. L'Alipen è contro l'Unione Europea, è contro l'euro, quindi, come dire, è un problema che nasce anche da lei. Saranno gli elettori a decidere, ribatte Salvini da Milano, in occasione dell'inaugurazione della nuova tratta della metropolitana Linate-San Babila. Tensioni politiche che tornano anche in Parlamento, domani si vota la richiesta della maggioranza di slittare di quattro mesi la ratifica del meccanismo salva stati. Nella pomeriggio al Senato, invece, il ministro per il turismo Sant'Anché riferirà per dare chiarimenti sulle sue imprese. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli affari interni, Ilva Johansson, oggi a Lampedusa. L'Europa non lascia solo l'Italia a gestire l'emergenza, ha detto la commissaria. Aumenti dei voli anomali su alcune rotte. Il garante chiede chiarimenti alle compagnie aeree. Giuseppe Caporaso. Avranno dieci giorni di tempo le sei compagnie aeree convocate oggi pomeriggio dal garante dei prezzi Benedetto Mineo su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Urso. Gli aumenti medi a maggio 2023 sono stati del 40% su base annua grazie alle indicazioni elaborate dall'Istat. Variazione dei prezzi anomali addetta anche di molte associazioni dei consumatori e per questo motivo Mister Prezzi ha invitato nel corso della videocall di oggi pomeriggio le compagnie aeree ad indicazioni e risposte chiare. Soprattutto perché il caro carburante ha visto ultimamente una frenata mentre i prezzi dei biglietti hanno raggiunto sempre più una valutazione elevata. Sotto osservazione l'andamento dei prezzi dei biglietti di alcune tratte nazionali segnalate anche dalle associazioni dei consumatori. In particolare verranno prese in considerazione i voli che collegano Milano e Roma con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari. Dieci giorni di tempo utile da parte delle sei compagnie aeree interessate Iterways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, EasyJet, Neos e Wits Air. La prossima riunione per il monitoraggio dei prezzi dei voli è stata convocata dal garante per giovedì 20 luglio per confrontare i dati delle imprese del settore aereo con quelli già ora disponibili. La Procura di Pescara ha depositato l'appello nei confronti della sentenza di primo grado sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. In Francia torna la calma dopo i disordini seguiti alla morte. Martedì scorso di Inaella Nanter per un mano di un poliziotto. Ce ne parla Fabio Bolsetta. I sindaci di alcuni dei 250 comuni colpiti dagli attacchi sono stati ricevuti all'Eliseo. Una Francia ancora col fiato sospeso di fronte ai disordini picco superato secondo il presidente Macron ma prudente prima di dichiarare il ritorno alla normalità ad una settimana esatta lo scorso 27 giugno dalla morte della 17enne Naelle ucciso da un poliziotto durante un controllo a Nanter mentre il minorenne avrebbe forzato il posto di blocco. Il paese fa i conti con i danni stimati secondo il MEDEF la confindustria francese in oltre un miliardo di euro oltre 200 negozi saccheggiati e 300 agenzie bancarie distrutte ma le ferite sono più profonde perché più della metà dei quasi 3500 fermati è minorenne. La Francia fa i conti anche con le nuove generazioni di fronte a 808 membri delle forze dell'ordine ferite e a quasi 6.000 veicoli dati alle fiamme. Anche le raccolte fondi sono diventate divisive dopo che quella per il poliziotto coinvolto attualmente in stato di detenzione preventiva ha superato il milione e mezzo di euro e soprattutto ha moltiplicato la raccolta per il giovane Naella. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dato il via libera allo scarico nell'oceano delle acque della centrale di Fukushima. Si tratta di un milione di tonnellate d'acqua da sversare. Antonio Soviero. La Cina non prende affatto bene l'ok dell'Agenzia Atomica Internazionale allo scarico nell'oceano delle acque della centrale nucleare di Fukushima. Pechino accusa Tokyo di ignorare le preoccupazioni internazionali e di usare l'oceano come una fogna. Il Ministero degli Esteri cinese definisce frettoloso il rapporto della IEA che dal via libera rilascia nel mare delle acque usate per raffreddare i reattori della centrale gravemente danneggiata da uno tsunami nel 2011. Per l'ONU l'impatto radiologico per la popolazione e l'ambiente è trascurabile. Attualmente nel sito nucleare ci sono mille serbatoi pieni d'acqua circa uno milione di tonnellate che è stata trattata in modo da ridurne la radioattività. A 12 anni di distanza il combustibile nucleare parzialmente fuso deve essere ancora raffreddato e per farlo periodicamente viene usata nuova acqua che si accumula nei serbatoi. Il premier giapponese Kishida prova a rassicurare il mondo e soprattutto paesi vicini e pescatori promettendo che non ci sarà alcun impatto negativo sulle popolazioni e che continuerà a fornire spiegazioni sul piano con un alto grado di trasparenza. Anche i vescovi cattolici della Corea del Sud lanciano un appello al governo giapponese affinché si cerchino strade alternative al rilascio dell'acqua radioattiva nel Pacifico. Una minaccia scrivono i presuli per l'ecosistema della nostra casa comune la terra. La proposta di regolamento europeo sulla genitorialità transfrontaliera è pericolosa e altamente dannosa per i bambini e le donne e le famiglie di tutta Europa. Significa legittimare e aprire le porte all'utero in affitto così Jacopo Coghe portavoce di provita e famiglia in merito al convegno fermiamo il mercato dei figli che si è tenuto questa mattina al Parlamento europeo a Bruxelles. In provincia di Modena un bambino di due anni è morto annegato in una piscina montata da pochi giorni di fronte a casa sua. La cronaca di Elena Seno. Ha raggiunto la scaletta della piscina montata da pochi giorni davanti alla sua casa ed è caduto in acqua perdendo la vita per annegamento a ritrovare il bimbo di due anni è stato il padre rientrato in giardino dopo essersi assentato pochi istanti questa la ricostruzione emersa della tragedia avvenuta ieri sera intorno alle 22 a Sant'Antonio in Mercadello frazione di Novi di Modena a nulla sono serviti i tentativi di salvare il piccolo compiuti da un vicino medico accorso sentendo le urla e dai sanitari del 118 giunti con l'elisoccorso il bambino è stato trasportato al policlinico di Modena dove è stato constatato il decesso non è la prima tragedia che avviene in piscina che siano pubbliche o private queste strutture chiedono di essere costruite o installate secondo precise norme per la sicurezza si possono dotare di coperture o recinzioni disponibili anche sistemi di allarme con sensori in caso di caduta nell'acqua attenzione al materiale a bordo piscina che si antiscivolo e attenzione ai bocchettoni per il ricambio dell'acqua che possono trasformarsi in trappole per i più piccoli indispensabile la manutenzione da controllare anche i valori del pH e del cloro ed ora Bologna per la storia di una ragazza di 25 anni sottoposta ad un trapianto di rene da sveglia Monica Di Loreto il senso è nella luce che è tornata negli occhi di mia figlia queste le parole di mamma Rosaria dopo aver donato il suo rene alla figlia Veronica di 25 anni una storia complicata ma a lieto fine grazie all'equipe medica del reparto di nefrologia dialisi e trapianto del Sant'Orsola di Bologna la prima struttura ad aver effettuato con successo un trapianto di rene in anestesia locale lo scorso maggio con una tecnica innovativa dimessa dopo due settimane Veronica ora è in buone condizioni di salute a causa di un quadro clinico problematico in particolare dell'insufficienza respiratoria da cui affetta Veronica non avrebbe potuto sostenere l'intubazione e l'anestesia generale che di solito viene praticata durante interventi lunghi e complessi come i trapianti la ragazza è malata di diabete soffre di fibrosi cistiche dalla nascita è seguita dal centro specializzato di Cesena ad operarla il dottor Matteo Ravaioli mentre era sveglia con il solo supporto di un'anestesia all'ocoregionale per i medici dell'ospedale Sant'Orsola l'intervento di cui ha beneficiato Veronica potrebbe aprire nuove frontiere nella gestione dei pazienti più deboli anche se le criticità non sono poche da svegli infatti si producono anche inconsciamente una serie di contrazioni muscolari che rendono più complicato al chirurgo operare inoltre per un paziente affrontare un'operazione così lunga da svegli può essere difficile dal punto di vista psicologico ed emotivo un intervento unico che anche in questo caso ha dimostrato come la medicina sappia essere sensibile e allo stesso tempo professionale Ed ora con Rita Salerno vediamo gli appuntamenti di Papa Francesco per le prossime settimane dalla giornata mondiale dei nonni alla GMG Rita Salerno Le celebrazioni presedute da Papa Francesco tra luglio e agosto saranno la messa per la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani domenica 23 luglio e quella in occasione dei due viaggi apostolici programmati da tempo in Portogallo prima e in Mongolia poi a confermarlo è il calendario reso noto oggi dall'ufficio delle celebrazioni liturgiche che dà conto nella Basilica di San Pietro della messa per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani alle 10 per il prossimo 23 luglio il terzo appuntamento che ha per tema di generazione in generazione la sua misericordia è legato a quello della giornata mondiale della gioventù Maria si alzò e andò in fretta ad indicare l'alleanza tra le generazioni tema caro al pontefice e proprio a Lisbona capitale del Portogallo Francesco si recherà per la giornata mondiale della gioventù dal 2 al 6 agosto mentre l'altro viaggio internazionale che attende Bergoglio è in Mongolia paese asiatico stretto tra Russia e Cina per la prima volta il vescovo di Roma barca il confine di questa nazione dalla posizione geopolitica strategica dove si fermerà dal 31 agosto al 4 settembre anche per confermare nella fede la piccola comunità cattolica locale nei giorni scorsi la prefettura della casa pontificia ha fatto sapere che a luglio come negli anni passati sono sospese tutte le odienze generali particolari e speciali del pontefice che riprenderanno mercoledì 9 agosto a margine della presentazione del libro di Andrea Riccardi il grido della pace il cardinale Matteo Zuppi torna a parlare della sua missione in Ucraina di cui ha da poco riferito al Papa Federico Plotti la pace è sempre possibile anche negli angoli più oscuri e negli scenari peggiori come in Ucraina un urlo un grido una richiesta che da mesi ormai arriva da più fronti e che per il momento resta sepolta sotto il rumore delle armi ancora fumanti ma il grido della pace questo il titolo del nuovo libro per San Paolo di Andrea Riccardi fondatore della comunità di Sant'Egidio risuona ovunque anche dove sembra sia stato nascosto azzittito io credo che abbiamo dimenticato il dramma della guerra ci siamo allontanati ormai dall'esperienza della seconda guerra mondiale è morta una generazione i testimoni della Shoah abbiamo perso l'orrore della guerra ma oggi vedendo quello che accade in Ucraina dopo l'invasione russa noi ci rendiamo conto come diceva un fante della prima guerra mondiale la guerra è brutta perché si finisce sotto terra alla presentazione del libro di Riccardi c'era anche il cardinale Matteo Zupi da poco tornato dalla missione di pace in Russia per il conto del Vaticano ho incontrato il Papa ha detto il presidente della CEI che si è detto anche fiducioso che la situazione dei tanti bambini ucraini deportati in Russia si possa presto sbloccare la tragedia della guerra della seconda quindi proprio nel 46 ripartiva da questa grande visione di un nuovo ordine internazionale dal quale la guerra dovrà essere abolita così come furono abolite la poligamia la schiavitura la servitura della gleba e la vendetta di famiglia presentato a Roma il documentario Raffa firmato da Daniele Lucchetti un omaggio alla Carrà morta due anni fa Fabio Falzone per lei chi è Raffaella? per me è una donna essendo nata io sotto il segno dei gemelli che ha due personalità cioè abbiamo noi degli scontri interni cosa è bene fare cosa non ti va di fare dunque c'erano due Raffaella la Carrà la Star e poi la Pelloni decisamente più riservata eppure decise esquisitamente emiliana non a caso a firmare questo Raffa è il pluripremiato regista di film come il portaborse mio fratello e figlio unico e della serie l'amica geniale Daniele Lucchetti che ha saputo da sempre raccontare il cuore dell'Italia e degli italiani Raffa è un omaggio emozionante a quello che sappiamo della Carrà ma c'è anche molto molto di più ma se lei non fosse la Carrà chi vorrebbe essere? la Pelloni intanto l'infanzia a bell'aria abbandonata dal padre un trauma con cui fa nei conti per tutta la vita e poi il debutto come attrice infelice e la scelta di diventare ballerina la volontà risapersi prendere il palcoscenico con uno stile unico una donna che è stata un'icona ma è un coggetto del desiderio per pubblici tra loro diversissimi il film racconta i successi ma anche gli stop l'abbandono della Rai la carriera in Sud America il desiderio di maternità destinato a rimanere frustrato ha avuto molto ma anche rinunciato a molto in scena ha dato in pasto se stessa al pubblico senza mai perdere la sua caratteristica numero uno la capacità di guardare dritto dentro gli occhi e in definitiva dentro il cuore dello spettatore è tutto vi lascio al meteo grazie per averci seguito buon proseguimento di serata arrivederci grazie per averci seguito